Amici della FISO benvenuti all'Orienteering ai tempi del covid tutti con la maschera però qui sotto potete leggere chi sono Chi vince oggi? Ma mi stai registrando? Oggi c'è Inter Milan L'Inter 1 a 0 Non lo so, non lo so Kolarov Purtroppo Chi vince oggi? Ma secondo me vince Ganna Turra lo sai che siamo all'Orienteering Chi vince oggi? Ganna Chi vince oggi? Atalanta Ragazzi ma siamo all'Orienteering Chi vince oggi? Non si sbilancia Chi vince oggi? Potete ammirare che bella mascherina in perfetto stile orientistico Grazie a chi me l'ha regalata Questa è fuori Pensavamo vincessi tu No non ho vinto Oddio ma si sente là? Ricordatevi di indossare sempre la mascherina Passe chiuda E la mia è meglio Questa è fuori Facciamoci riconoscere Chi vince oggi? Vince Francesco in M0 chiaramente Amici dell'Orienteering Anche questo è orientamento No, frena, frena, frena Ascoltiamo chi ha vinto veramente Io Chi ha vinto? Lei Lei sicuramente No, lui Lui Pari dai Pari Vediamo domani Vediamo domani Vieni Avete capito? Vieni 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 Vieni